Tra gli ultimi colpi di mercato della Salernità non ha passi inosservato quello di Sean Weisman, calciatore israeliano arrivato dal Granada. Weisman negli ultimi mesi è passato l'onore della cronaca non tanto per il suo gol quanto per il duro comunicato della Inciada de Arlazon, gruppo ultras del Burgos, club di seconda divisione spagnola nel quale si vociferava che lo stesso Weisman si potesse trasferire. Un'indignazione riconducibile ad alcuni tweet, like e retweet da parte del calciatore poco ore dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Distruggere, stringere, schiacciare alla vendetta di Dio. Qual è la ragione logica per cui 200 tonnellate di bomba non sono state lanciate su Gaza? E ancora, perché Israel non gli spara in testa a corredo di un'immagine in cui si vede un soldato israeliano puntare il fucile verso due presunti terroristi palestinesi nudi? Questo ha scritto e condiviso Weisman, oltre mi piace, messa a tweet a dir poco inquietanti come Tutta Gaza sostiene il terrorismo, tutta Gaza è morta. Il tutto poi è stato prontamente cancellato dopo aver fatto il giro del web con il calciatore che ha tenuto a precisare che tali messaggi non fossero per la sua ma del social media manager, il più classico degli scaricabarile. Weisman, dopo la denuncia di alcuni cittadini palestinesi residenti a Granata, è finito sotto indagine, seppure al momento non si hanno novità. E però non è stato mai sospeso dal club, non venendo convocato per la gara successiva contro lo Sasuna, ma solo per motivi di sicurezza. Come riportato da Lanz e precisato da fonti del club andaluso, infatti la decisione di lasciarlo a casa è stata presa sul consiglio dell'autorità spagnole. Non un'idea così peregrina, considerato che nei primi minuti del match sono comparse sugli spalti bandiere palestinesi, mentre i tifosi di casa hanno intonato pesanti corri nei confronti dello stesso Weisman. Chissà come il pubblico di Salerno e il suo tifo organizzato reagiranno davanti tale acquisto e se verranno messe da parte tale dichiarazione o meno. Fatto sta che il caso Weisman ci evidenzia come ci sia una disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi arabi colpevoli di aver condiviso frasi o video filo palestinesi. In effetti, 3 gennaio 2024, Atal, calciatore di nazionalità algerina del Nizza, è stato condannato a otto mesi di carcere con sospensione della pena per incitamento all'odio religioso. Nel tumulto delle polemiche eseguite agli attacchi il 7 ottobre, infatti, il giocatore si era schierato sui suoi canali social inequivocabilmente dalla parte dei palestinesi, intanto con un post emblematico nel quale si mostrava la bandiera palestinese e la frase «Palestina libera». Parallelmente, nelle storie Instagram veniva condiviso un video del predicatore islamico Mohamud Al-Sanat, il quale si augurava che Dio riservasse una giornata nera per Israele. Malgrado le scuse pubbliche del calciatore, la reazione dell'inizio è stata drastica, con la sospensione fino a nuovo ordine. Così Atal, nel giro di pochi giorni, si è trovato accerchiato. Prima dalla commissione disciplinare del campionato francese, che ha deciso di sospenderlo per sette giornate con decorrenza dal 31 ottobre. Due pesi, due misure. È vero anche che si tratti due federazioni differenti, con i club che possono decidere liberamente come muoversi nel punire i propri tesserati, ma la gravità delle azioni compiute da entrambi è la stessa. Una delle tante rappresentazioni, questa volta a sfondo calcistico, di come il doppio pesismo dell'Occidente stia toccando nuove vette e di quando la fosca previsione di Martin Luther King si stia pian piano trasformando in amara realtà. Se non state attenti, i media vi faranno odiare gli oppressi e amare gli oppressori e le istituzioni calcistiche anche.